Bambini che si divertono, genitori che passeggiano con figli, studenti impegnati col computer. Sì, siamo in Moldavia, il paese conosciuto come il più povero d'Europa e con un terzo della popolazione attiva e emigrata. Diaspora che terminerà quando finalmente farà parte dell'Europa Unita. Il signor Presidente ha fatto un grande onore per me e mi ha invitato a fare il suo consigliere economico. Quindi ha un ruolo istituzionale. C'è un ruolo istituzionale e un'istituzione. Sì, oggi come oggi. Durante questa riunione che c'è stata tra il Presidente e gli imprenditori italiani sono stati sollevati molti argomenti. A suo parere, come specializzate in economia, quali possibili scenari possono avvenire economicamente tra l'Italia e quindi gli imprenditori italiani in Moldavia e i Moldovani? Abbiamo tante possibilità di collaborare con l'Italia. Na sceguodni l'Italia находится na tretem mese po' obiemu export-import-import. A attualmente Italia sta in terzo posto di operazione export-import tra l'Italia e gli imprenditori italiani portano nuove tecnologie in Moldova. Per noi è molto importante. Per noi è importante avere collegamenti con l'esperienza, che ci sono stati in Moldova e, ovviamente, in Italia. Quali ci sono in Moldova e gli imprenditori italiani. E soprattutto per l'Italia, per l'Italia, per l'Italia, la produzione di agricoltura, la possibilità di collaborazione bella e possiamo imparare dall'Italia tante cose. La Moldavia è prevalentemente agricola. E c'è una problema небольшa. Ma sembra che gli imprenditori Moldavi non sono intenzionati a dedicarsi a questa attività. La politica economica, che è stata fatta fino ad adesso, non era in interessi del business privato. Non hanno abbastanza i mezzi per produrre la produzione di qualità alta. E poi il periodo in cui la Moldova è diventata come un paese indipendente è abbastanza breve. Non è lungo il periodo, è passato poco tempo. Ma siamo diventati indipendenti. Condizionati. Condizionati. Ovviamente è abbastanza difficile in così breve periodo cambiare tutta la situazione economica, fiscale. Però stiamo lavorando, stiamo lavorando e piano piano deviamo cambiare la situazione fiscale. Prima di tutto rapporti tramite un business privato con lo Stato per fare condizioni più vantaggiosi per gli imprenditori. Il tuo ruolo qui in questa accademia, che parla di economia, è quella della formazione di giovani e quindi che sarà fondato su un futuro di questi giovani. Io penso che abbiamo già i miei успechi. Penso che già abbiamo il successo. e crescono le nuove generazioni, che non vogliono più vivere con il livello basso del standard. Le vogliono avere un livello di vita, Le vogliono più alto livello della vita, vogliono vivere bene il suo paese. E, per l'altro, ciò che è successo il 7 aprile, c'è anche una buona alla nostra famiglia. E, per la famiglia, questa è una buona, la giovani. La giovani è del nostro paese, voglia vivere libera. Le ragioni è abbastanza sviluppate. Le ragioni è molto informato. Le ragioni sono molto informato. E le ragioni sono molto informati bene. e io sono molto contenta che ho la possibilità di lavorare con questa gioventù. Io anche io imparro tantissimo da questa gioventù. Non mi dà possibilità di non rimanere indietro. Io ho visto che ho lavorato con molti anni, come tanti anni che lavoro come studenti e praticamente ogni 2-3 anni c'è un nuovo поколение con un più alto livello di preparazione e informazione. Ogni 2-3 anni arriva una nuova generazione sempre più preparata e più sviluppata di altri. Bene, vuol dire che il Presidente ha scelto giusto. Questo significa che il Presidente ha scelto giusto la candidatura. Ho spero, spero. Ma per me è molto importante che ho la possibilità di partecipare anche in piccolo sviluppo di questo paese. Grazie per la sua disponibilità e le faccio tutti i miei auguri sia per la scuola sia per l'academia sia per il ruolo che ha accanto al Presidente. Grazie. 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 Grazie.